Nel decennale della nascita dell'orchestra Biagio Abatte della provincia Bat, dopo il concerto di Capodanno e la dedica al tenore Caruso e al milita ignoto, l'estate non si ferma. Da luglio in programma altri importanti appuntamenti nel segno dell'originalità, dell'intrattenimento e dell'impegno. Gli eventi rientrano nel cartellone estivo Bisceglie tutto l'anno, l'estate in blu 2022. Primo degli eventi in programma è la traviata per sabato 23 luglio al Teatro Mediterraneo di Bisceglie, con l'orchestra Giovani Le Bat, diretta dal maestro Nadir Garofalo, uno tra i giovani direttori più apprezzati in Italia. Si continua poi il 28 agosto con l'omaggio immancabile alla musica e al cinema. Giunto alla sua terza edizione il concerto al tramonto, vedrà esibirsi il musicista Nello Salsa, definito la tromba del cinema italiano, protagonista del concerto dedicato al maestro Ennio Morricone. Il cartellone estivo in collaborazione con il patrocinio del comune di Bisceglie si concluderà il 18 settembre con Five Tango Sensation in una piazza del centro storico a rimarcare il connubio tra arte e territorio. Un programma davvero splendido e molto ricco che cercherà di contemperare quella che è sempre stata un po' la missione della Biagia Abate, cioè quella di valorizzare i nostri talenti, i talenti locali, i nostri ragazzi, aggiungendo un tocco di esperienza e quest'anno anche vedremo la presenza di ospiti davvero importanti che arricchiranno questo bellissimo programma. Progetto che abbiamo nominato come controtempo d'autore, controtempo che non è altro che un contrasto ritmico, è un prodotto dall'atenarsi di pause tra tempo forte e nota sul punto debole. Insomma un effetto particolare, per questo abbiamo ideato questo nome che contraddistingue i nostri tre appuntamenti.